Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con due novità che ho trovato a Lidl Le baretti di cioccolato di Spongebob e di Peppa Pig Costo 1,29€ l'uno 10 in ogni confezione Vi faccio vedere il packaging che è molto molto bello Quanto meno il davanti perché il dietro è totalmente anonimo E a livello di marketing ragazzi un packaging fatto bene fa tanto Chiaro che poi il prodotto deve essere buono perché se non è buono non viene comprato Però se fai un buon prodotto e un packaging spettacolare vendi tanto Ma il marketing ragazzi è importante dappertutto Ormai l'apparenza ha un'importanza quasi simile all'essere Il marketing ormai è dappertutto, è importantissimo Tutte e poi le sue delineazioni, naming e quant'altro è importantissimo E ormai anche l'occhio vuole la sua parte Anche quando si tratta di cibo Guardate anche i ristoranti, gli impiattamenti che fanno e via discorrendo L'occhio ormai vuole la sua parte Comunque apriamo, vediamo anche il packaging come è fatto all'interno Quindi le bustine che contengono le barette di cioccolato E vediamo anche la baretta in set per sé Ah no, sono contenute così Non sono singole come i Kinder Ma sono contenute in un'unica In un'unica confezione Ah, il packaging è pessimo all'interno Ed ecco qua E sono veramente piccole ragazzi Mamma mia quanto sono piccole E sono due, quattro, sei, otto e dieci Perché due erano rimaste dentro Infatti dicevo dieci c'era scritto Ma ne contavo solo otto come era possibile Perché due erano rimaste dentro Ecco qua, le faccio vedere Eccole qui Mi assaggio una Ecco l'interno Il gusto non è il massimo È abbastanza anonime in termini di gusto ragazzi È abbastanza anonime Si sente il latte ma il cioccolato Non è un gran che Comunque abbastanza anonime Adesso vi mostro anche questi di Peppa Pig Che sono le stesse Quindi Il gusto è quello Cambia solo Il packaging Perché ovviamente cambia il franchise E chiaramente devi cambiare per forza il packaging Comunque però La bustina non è male Vedete Il colore prevalente di Peppa Pig è rosa Infatti l'hanno fatta tutta rosa Con Peppa Pig Il colore prevalente di SpongeBob è giallo L'hanno fatta gialla Con Le facce di SpongeBob è che dite Vedete Tutte Stampate Stampate Per tutta la busta Allora Vediamo anche queste di Peppa Pig Sempre due che rimangono dentro Che si vanno a nascondere Beh io pensavo che erano delle vere e proprie barrette Invece sono proprio dei cioccolatini praticamente ragazzi Non sono delle barrette Ok che c'era scritto mini Per carità però Milk Chocolate Se le fa vedere così Già Mordicchiate Come direbbe qualcuno Che era famoso ai miei tempi Però Cioè Non è di quando ero ai miei tempi Intendo di quando ero bambino Però pensavo che erano delle vere e proprie barrette Piccole Magari non grandi ovviamente Ma anche le Kinder Alla fine non è che sono enormi Cioè Però Invece sono dei cioccolatini Io pensavo delle vere e proprie barrette Invece sono dei cioccolatini Vabbè Eccoli qui ragazzi Cioccolatini Quindi non barrette Perdonate l'errore Ma non è colpa mia Ecco qua i cioccolatini di Peppa Pig E Spongebob Detto questo ragazzi Si conclude qui questo video Voi iscrivetevi al canale Per non perdere più questo e tanti tanti altri contenuti Lasciate un bel mi piace a questo video Commentate questo video Condividete questo video In the box ci sono i link alle pagine Facebook Instagram, TikTok e Twitch del canale Se volete seguitemi anche lì Sempre in the box c'è il link al blog Se volete fateci un salto E noi come al solito Ci becchiamo Al prossimo video Ciao belli Grazie a tutti Grazie a tutti